Arriva all'Aquila la manifestazione James Walk il prossimo 4 maggio. Si tratta di un festival annuale internazionale organizzato dalla piattaforma James Walk e patrocinato in Italia dall'Istituto Nazionale di Urbanistica. Consiste in conversazioni itineranti attraverso quartieri della città, guidate da cittadini ed ispirate al pensiero di Jane Jacobs. Altre passeggiate in Italia si svolgeranno anche a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Cagliari, Genova e Olbia. Tutte le iniziative onorano la memoria della sociologa urbanista americana Jane Jacobs. Le sue ricerche incoraggiano le persone a riflettere sulle funzioni sociali e aggregative della strada, sul ruolo delle persone nella progettazione di politiche economiche o sociali e del design dello spazio pubblico. La passeggiata incoraggia a condividere storie sui propri quartieri, a scoprire aspetti non visibili delle proprie comunità e a usare la camminata come mezzo per relazionarsi con i propri vicini. Quest'anno Frazioni Fraintese ha risposto alla colla internazionale della Jane's Walk inserendo l'Aquila nella rete della città in cui la manifestazione si svolge. Le associazioni Circo L'Oquerenza, Comitato 332 Casematti, Aternoaria, Frazioni Fraintese e Fuori Genere, l'Aquila Yo-Yo, Metis, Urban Center, Viviamo la Q, Collezioni Aquilani di Archeoclub, Friday for Tutor, Greenpeace, Gruppo Locale, Inu, Abruzzo e Morisi, Italia Nostra, Lega Ambiente e Abruzzo, Beni Culturali, Slow Food, Pronatura, UDS L'Aquila, Udu L'Aquila, Zero Rifiuti, rendono possibile la manifestazione organizzando ed aderendo all'iniziativa. La Jane's Walk Aquilana partirà da Fia Fontesecco ed arriverà al Parco delle Acque dove terminerà con un picnic, porta e condivide. La passeggiata sarà un modo per osservare, riflettere, condividere, discutere e reimmaginare collettivamente i luoghi in cui vive, lavora e si muove una città in ricostruzione. Grazie a tutti.